E voi continuate a denigrare le sagre, intanto io qua sono a Fumone, che è un paese bellissimo, storico, Papa Celestino V, qua fu messo in prigione nel XIII secolo, c'è un giardino stupendo, c'è un castello stupendo, c'è un'atmosfera bella, c'è la sagra, sagra, sapete cosa vuol dire? Sagra, odori, profumi, cibo buono e la guest star è povia, ma io sono felice di cantare nelle sagre, sagre di tutta Italia, di tutto il mondo, chiamate povia, che io rendo onore alla festa e soprattutto non tengo la gente a distanza un metro e mezzo come fanno certi artisti schizzignosi che soltanto alla fine del concerto dicono, grazie di cuore, ma vai a cagare!